Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch per comprare gli stili sia dell'appartamento che del CEO gratis senza spendere soldi, senza stare lì a spendere soldi per provare magari tutti gli stili. Con questo metodo potete comprarli gratis, allora io adesso vi faccio vedere i miei soldi in pratica, sono questi qui, come vedete 64 milioni, 0,26 mila e cazzi e mazzi insomma per capirci. E poi io andrò a spiegarvi il glitch ragazzi, allora è semplicissimo, è veramente una cazzata, però è un peccato perché funziona solo su PS4. Allora per fare questo glitch avete bisogno di un'attività recente, dovete avere un'attività recente come una taglia, un veicolo comprato o qualcosa del genere. Quindi a questo punto la tenete bella preparata, già con l'opzione avvia l'attività. A questo punto che cosa dovete fare ragazzi? Andate sull'arredamento dell'ufficio, scegliete quello che volete modificare, quello che volete, quello che vi piace di più. E ci cliccate sopra, non appena ci cliccate sopra ragazzi, come vedete io sono dello stile, non appena ci cliccate sopra dovete premere immediatamente doppio tasto PS, io vado sullo stile, ci clicco per comprarlo, premo doppio tasto PS e faccio avvia attività e poi premo cerchio ragazzi. Non appena premiamo cerchio lo stile è cambiato, vi faccio vedere anche nell'appartamento che è la stessa cosa, scegliamo lo stile che vogliamo, doppio tasto PS, avvia GTA e poi schippiamo l'altro messaggio ragazzi. E come vedete non compare nessun messaggio di acquisto, non ci compare nulla. E abbiamo in pratica comprato gli stili a gratis ragazzi, a gratis come al solito, in questo periodo è in periodi di tutto gratis, quindi anche questi sono gratis. Vi faccio rivedere i soldi nella banca ragazzi che non sono variati e nulla, questo è un fanny glitch, non so come chiamarlo ragazzi, però è un glitchetto che magari a qualcuno può tornare udile. Come vedete i soldi sono rimasti invariati e se magari volete, non so, comprare uno stile, provare tutti gli stili e guardarli tutti senza stare lì a spendere soldi sia per gli appartamenti che per il ceo, potete fare questo glitch e potete avere il glitch. Spero che il glitch vi piaccia, detto questo un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. Ciao a tutti.